Ciao, sono Marco del negozio Passport. Innanzitutto benvenuti e ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Ti invito, se non l'hai già fatto, ad iscriverti al nostro canale e seguirci anche sui nostri social Instagram e Facebook. Oggi mi trovo in compagnia per presentarti la nuova nata in casa Saucony. Parliamo di Saucony Ride 13, versione uomo e versione donne. Perché Ride 13? La risposta è semplice. Con la serie Ride Saucony era arrivata alla numero 10, poi c'è stata Ride ISO 1, poi Ride ISO 2 e quindi la nuova nata, riprendendo la vecchia, tra virgolette, numerazione, ecco che si chiama Ride 13. Iniziamo dalla tomaia. In questo caso viene utilizzato un mesh ingegnerizzato a doppia trama con l'applicazione di stampe in 3D Fit Print. Questo serve per dare struttura e allo stesso tempo riuscire a ridurre le cuciture. Tutto questo si traduce in un ottimo comfort per il piede perché all'interno della scarpa il piede appunto viene contenuto bene nella zona del collo, allo stesso tempo sull'avampiede viene lasciato un buono spazio per la mobilità delle dita e infine nella parte talonare, sempre con l'utilizzo di questa nuova tecnologia e ovviamente all'utilizzo di un'imbottitura di medio spessore, abbiamo anche un ottimo contenimento del tendine e questo serve per prevenire anche eventuali infortuni. Altra novità molto importante su SAO con i Ride 13 è la costruzione dell'intersuola e della suola. Innanzitutto andiamo a notare la costruzione triflex con le scanalature progressive soprattutto sulla parte dell'avampiede che serve ad avere un ottimo scarico del peso a terra e allo stesso tempo garantire un'ottima fluidità che si traduce in una corsa molto naturale e molto fluida. L'altra caratteristica sempre dell'intersuola è l'utilizzo della mescola Power Run, una mescola alleggerita rispetto alle edizioni precedenti che però conserva e mantiene un'ottima ammortizzazione, un'ottima reattività e un'ottima elasticità anche in fase di spinta sull'avampiede. Che dire ragazzi questa scarpa è davvero un ottimo prodotto, si presenta sul mercato con interessanti novità in abbinamento anche a un peso alleggerito, parliamo di 278 grammi nella versione maschile e 248 nella versione femminile. A chi è consigliata questa scarpa? Può essere un'ottima compagna di corsa anche per atleti medio evoluti quando vogliono fare gli allenamenti quotidiani in tutta sicurezza in quanto molto ammortizzata ma allo stesso tempo anche un atleta magari un po' più pesante e magari un po' più lento se la può godere, la può utilizzare forse non su lunghissime distanze ma per correre in estrema tranquillità per fare la classica corsa giornaliera sui 10-15 chilometri anche quando i ritmi non sono sotto i 4 al chilometro appunto. Detto questo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, vi invito ancora a seguirci sui social e se abitate lontano potete seguirci anche nel nostro sito dove vedete anche la disponibilità di prodotti che si chiama www.passport.it. Indovinato? Ciao! Ciao!